La normalità dei rapporti tra Germania e Turchia è migliore di quella di oggi. Sia io sia il mio collega turco auspichiamo il ritorno a questa normalità. L'ho detto il ministro degli esseri tedesco Sigmar Gabriel a Berlino, a margine di un incontro con il suo omologo di Ankara, Mevlut Cavusoglu, un incontro che cade in un momento di estrema tensione nei rapporti bilaterali. Vogliamo camminare insieme pacificamente, risolvere i dissensi in maniera democratica e assicurare che nessuno sia trattato con mancanza di rispetto. Su questo possono contare, sull'amicizia della Germania. Ci sono tuttavia dei limiti da non superare e la comparazione con il nazismo è uno di questi. L'attenzione diplomatica tra Berlino e Ankara è alimentata dall'arresto in Turchia del reporter della VELTS, Denis Yücel, e il rifiuto di alcuni comuni tedeschi ai comizi elettorali di ministri turchi in vista del referendum di aprile. Intanto dobbiamo decidere una cosa, vogliamo continuare come due paesi amici o vogliamo rompere i nostri legami? Come Turchia siamo favorevoli a continuare in amicizia, ma la Germania deve decidere in merito così da permettere di fare progressi in base a questa decisione. Ieri Ciavusoglu aveva parlato ad Hamburgo dal balcone del Consolato dopo che il sindaco aveva negato i permessi per l'uso di una sala.